Ciao, sono Elisa, per me stare con i ragazzi ROM è mettersi in gioco. Ciao, sono Francesco e il progetto qui in Albania con i bambini ROM è importante per conoscere realtà diverse ma anche vicino a noi. Ciao, io sono Antonio, per me stare con i ROM è un'esperienza emozionante ogni giorno. Ciao, io sono Pina, per me stare con i ROM è un'esperienza fantastica! Ciao! E così, ecco noi volontari alle 7 di mattina che saliamo sul furgone che ci portrà alla scuola pubblica di Jupin, ma non saremo i soli a salirci. Infatti, pochi minuti dopo, vengono a farci compagnia anche i vivaci bambini del villaggio ROM che con la loro allegria ci danno la carica ogni giorno. A scuola supportiamo le maestre nelle loro attività didattiche, aiutando i bambini ROM con più difficoltà ad imparare a scrivere, a leggere, a contare. E non mancano i momenti ricreativi e di svago, sia per noi che per i bambini. Alcune mattine facciamo visita anche all'esilio del villaggio, dove giochiamo e disegniamo con i bambini più piccoli. Il pomeriggio i bambini possono venire all'oratorio del Muriando, un centro aperto gratuitamente a tutti, sempre pieno di attività sportive, ricreative e musicali, nelle quali si divertono con i loro coetanei. Il pomeriggio i bambini è un'esilio del villaggio, un'esilio del villaggio, un'esilio del villaggio, un'esilio del villaggio. Dopo un'intensa giornata, i bambini del villaggio possono finalmente ritornare a casa, esausti ma felici, con la consapevolezza che anche domani i volontari saranno qui per loro. Grazie a tutti!